Un fiume di oltre mille persone che si sono dati appuntamento al parco di San Donato a Novoli per sfilare verso il centro di Firenze e dire in coro no all'inceneritore di Case Passerini. Oltre cento le associazioni che hanno aderito dalla Piana e da tutta Italia, insieme a personaggi noti della musica impegnata come la banda Bardot e Bobo Rondelli, ma soprattutto molti cittadini comuni preoccupati soprattutto per le conseguenze sulla loro salute. Perché è qui? Perché non si vuole questo inceneritore, no, assolutamente no. Di cosa paura? Di tutto, di tutto quello che può scaturire questa cosa, rifiuti, tossico, tutto. Sono qui perché è importante sia per i nostri bambini che per il nostro futuro, perché non è sostenibile un inceneritore nella Piana Fiorentina e bisogna perseguire le strade alternative che esistono e vengono già sperimentate in altre città. Una cittadina della Piana? Certo, sono di Campi Bisenzi, ho fiero di esserlo, però lotterò infatti per difendere il territorio. Io provengo dalla terra dove c'è l'inceneritore più grande d'Europa, a Serra. Voi siete medici e dite no all'inceneritore? Certo. Perché? Perché ormai è stato dimostrato da moltissimi studi scientifici che fa male alla salute. Anche questi di ultima generazione come li chiamano? Certamente. I rischi quali sono? I rischi medici sono nella genetica, perché si è visto che queste sostanze interferiscono nello sviluppo proprio dell'embrione, aumenta decisamente l'incidenza dei tumori. E questa non è un'idea nostra. Noi abbiamo fatto ben due corsi ECM dell'ordine dei medici, quindi una cosa ufficiale, che spiegava le conseguenze a livello genetico e a livello naturalmente di malattie tumorali. Anche l'Alzheimer. Tumori infantili come il tumore dei tessuti molli, le leucemie, linfomi. Più studi ormai internazionali dimostrano che alcuni tipi di tumori sono strettamente legati alle aree dove risiedono i bambini vicino agli inceneritori. Oltretutto ci sono le scorie, cioè oltre ai fumi, quando l'incineritore ha compiuto il ciclo, c'è una quota importante, una percentuale importante di residuo, di scorie, che sono rifiussi tossici, pericolosi, che vanno anche quelli smaltiti.